Balaustra in marmo Il presbiterio della chiesa è separato dalla navata dalla pregevole Balaustra in marmo con quattro figure di angeli, che sorreggono la tovaglia eucaristica realizzata nel 1792 da Girolamo Bocciardo, figlio di quel pascale, autore del pulpito. L'altare maggiore del 1791-92 è invece opera di Andrea Casareggio. Sulla parete sinistra del presbiterio è collocato un ciborio rinascimentale in marmo bianco con dorature, struttura nella quale si conservano le ostie consacrate dopo la celebrazione eucaristica, firmato da Gio Lorenzo Sormano e datato al 1521. Le due grandi tele, ai lati dell'altare maggiore, sono copie settecentesche dello Spoleti, dalla trasfigurazione di Raffaello e dall'assunzione della Vergine del Rubens. Nella navata centrale si può ammirare l'originale pulpito scolpito nel 1765 da Pasquale Bocciardo, impostato su una colonna di nuvole alimentata dal soffio di angeli, che sospingono, verso l'alto, il carro sorretto dai simboli apocalittici degli evangelisti, riferimento al biblico sogno di Ezechiele e al contempo tardiva reminescenza del casato carrettesco.